Dalla boutique Zilling di Via della Spiga a Milano, la ricetta che vi presento sono verdure brasate nella cocotte stove. Le verdure che andrò a cuocere saranno patate, barbabietola, rapa bianca, carciofi, carote. Faccio scaldare la casseruola, aggiungo dell'olio extravergine di oliva. Inizio a cucinare prima le verdure che richiedono più tempo, come i carciofi. Due spicchi d'aglio in camicia per dare sapore, dei bouquet di rosmarino e timo che insaporiscono le verdure, le patate, barbabietola rossa, rapa bianca. A questo punto aggiungo del sale, pepe macinato. Vado a coprire per fare in modo che si crei un effetto vapore all'interno della cocotte. Questo permette una cottura più rapida delle verdure. Tra qualche minuto aggiungerò le carote. Aggiungo le carote. Adesso per aiutare la cottura delle verdure a creare un effetto vapore e una brasatura durante la cottura, aggiungo dell'acqua in questo modo e lasciamo cucinare per 15 minuti. Le verdure sono pronte, tolgo il coperchio, faccio asciugare bene e glassare la verdura per completare la cottura. Vado ad impiattare le verdure. Inizio con il carciofo, patata, carota. Le verdure brasate nella cocotte staub sono pronte per essere degustate.